Se un giorno dovessi nuovamente incontrarti, non potrò odiarti, né serbarti rancore. Camminerò ancora al tuo fianco, coltivando la sola speranza di essere considerato un essere vivente, quale io sono. Poi, quel giorno, quel cane, chiuse gli occhi, per sempre. Chi è la bestia? Chi è la bestia? Chi è la bestia? Grazie a tutti.